Ciao ragazzi, mi chiamo Alberto, mi sono laureato nel 2018 in Biotecnologie Molecolari e Industriali presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Oggi lavoro come ricercatore in un'azienda svizzera che produce test diagnostici rapidi. Parallelamente ho dato vita a un progetto che si chiama Allen Sexar, che ha come scopo quello di portare la realtà virtuale delle università italiane. Questi miei progetti non sarebbero mai stati possibili senza le competenze che ho acquisito all'Università dell'Insubria, competenze sia teoriche che pratiche. Quindi posso solamente dire un grazie alla mia università per la formazione che mi ha dato.